Salve a tutti! Come certamente saprete di già, sono alla ricerca delle sfere. Il mio nome è Freezer. A proposito, che fine hanno fatto i vostri compagni? Secondo i nostri ultimi rilevamenti, avreste dovuto essere almeno dieci in questo villaggio sperduto. Devo dedurne che non volete collaborare. Peggio per voi. Peggio per voi.